salve a tutte e a tutti benvenute e benvenuti alla seconda puntata di a tu per te podcast un podcast realizzato da volumwright con l'informa disabile è un podcast che si occupa di argomenti informativi e di attualità relativi alla disabilità che va in onda all'ora del tè siamo quest'oggi in compagnia di cristian tarasco architetto dalla divisione delle infrastrutture mobilità servizio mobilità dolce quest'oggi tratteremo di argomenti su circa la mobilità dolce per l'appunto l'accessibilità e la sharing mobility ma molto altro ti chiederei di presentarti di dirci che formazione hai che di che cosa ti occupi per la città se io in realtà faccio un part time per la città sono anche un libero professionista per la città nel nel nostro settore ci occupiamo appunto di mobilità dolce che è riferita tutta la mobilità la pedonalità la i sistemi di utilizzo della bicicletta cioè tutto quello che ha una mobilità rallentata misura duomo benissimo quindi ci hai ci hai parlato di mobilità dolce vogliamo fare un affondo su che cos'è effettivamente la mobilità dolce aiutiamo magari chi ci ascolta a capirne qualcosa di più la mobilità dolce viene considerata come una mobilità lenta anche nel senso può essere una mobilità di una persona che cammina semplicemente a piedi con una velocità più o meno di 4 5 km interorari come può essere anche una mobilità data da un movimento tramite un mezzo come la bicicletta poi negli ultimi anni 2018 è partita tutta una normativa sulla micro mobilità quindi sull'utilizzo di monopattini dei segue oppure bici elettriche cose così che fanno comunque parte di questo tipo di mobilità noi ci occupiamo all'interno del nostro settore di di mettere in sicurezza a determinati percorsi sia per le persone quindi lavoriamo sulla pedonalità creando magari degli spazi dedicati alla sicurezza con esempio facciamo delle isole in croci per ridurre la percorrenza sul tratto di attraversamento quindi facciamo un isola di protezione all'inizio alla fine dell'attraversamento stringendo l'asse stradale per consentire anche una riduzione del traffico veicolare su sull'attraversamento e di questo effettivamente ti occupi con il comune di torino quindi queste sono alcune diciamo delle soluzioni che adotta il tuo ufficio l'ufficio dove lavori per la città per migliorare per l'appunto questa mobilità la realizzazione del anche delle piste ciclabili con la mia collega che si occupa di quello specializzata proprio in quel settore individua sia il percorso che comunque realizzato in base tutto uno studio di del movimento delle persone all'interno della città ha creato determinate direttrici di percorrenza per migliorare comunque i collegamenti con della città all'interno della città con queste piste ciclabili proprio per lo sviluppo della mobilità dolce certo a proposito di mobilità ancora stavamo ragionando a telecamere spente relativamente a quel servizio in collaborazione con 5t che sappiamo si chiama mobility as service mobility as a service service ci raccontavi che è un servizio della città che deve partire che deve ancora partire sappiamo che deve partire un'idea abbastanza futuristica che consiste in un ma non poi così tanto futuristica cioè ci stanno già lavorando sopra adesso bene questa è un'ottima notizia che fondamentalmente consiste nell'avere una tessera utilizzabile per tutti quei servizi di sharing oppure anche soltanto di mobilità gtt vuoi parlarci di questo servizio si allora è partito un po tutto da livello nazionale che erano questi buoni mobilità e noi come città e come regione piemonte almeno loro come città e come regione piemonte avevano pensato a questo sistema di utilizzare questi buoni mobilità un po su tutti i sistemi di mobilità quindi si tratta di utilizzare un'unica tessera con cui tu puoi pagare quindi fare una ricarica su questa tessera e usufruire diversi servizi cioè puoi utilizzarla per prendere il treno come puoi utilizzarla per prendere l'autobus o il tram oppure affittare anche i monopattini le biciclette il car sharing e tutto quello che riguarda un servizio dedicato alla mobilità della persona bene a proposito stiamo visto che stiamo parlando della sharing mobility avremmo piacere di ragionare all'interno dello sportello in forma disabile sono pervenute un sacco di critiche anche a questi servizi soprattutto privati di free floating quindi tutti quei servizi che ti permettono di noleggiare un mezzo di trasporto come i monopattini o le bici che poi però vengono lasciati tante volte sui marciapiedi e quindi vanno a minare l'accessibilità dei marciapiedi avevo fatto proprio un intervento in occasione del 3 dicembre dell'anno scorso sulla questione dell'accessibilità e delle problematiche date dalla micromobilità dove venivano lasciate magari i monopattini oppure le biciclette in free floating sappiamo che ci sono anche dei discorsi relativi all'utilizzo di questi di questi mezzi di trasporto che possano diventare accessibili a loro volta ad esempio il servizio della città autobike si stava si stava ragionando sul mettere a disposizione delle handbike per le persone con le vendita l'handbike in realtà è un servizio che è già attivo è un servizio che è partito da un consigliere di circoscrizione 1 assieme alla sua associazione ha messo a disposizione 5 handbike che sono semplicemente delle biciclette che si possono guidare con l'utilizzo degli arti superiori anziché e quelli inferiori e consentono a una persona con disabilità di potersi muovere con questo sistema una bicicletta per disabile che viene definita handbike certo questo sicuramente è uno di quegli effetti positivi che ha la sharing mobility sulla città esistono delle politiche facendo un passo indietro esistono insomma delle soluzioni che la città sta pensando per evitare che questi servizi di free floating invece che non hanno la stazione dedicata come può essere autobike per evitare che le persone lasciano i mezzi di trasporto è un problema che non abbiamo ancora cioè che la città non ha ancora risolto che abbiamo ricevuto un sacco di lamentaele un sacco di fotografie, segnalazioni consiglio comunque alle persone con disabilità di chiamare il pronto intervento della polizia urbana fare comunque multare questo sistema di comportamento perché poi alla fine lì non è questione della società che deve gestire la cosa ma è la questione proprio un po' di educazione civica da parte del cittadino società che peraltro sappiamo che operano già in una sorta di sensibilizzazione no? per quanto riguarda queste cose sì perché ad esempio molte di queste società almeno molte alcune utilizzano danno la possibilità anzi danno la possibilità obbligano perché se no continuano a pagare l'affitto del monopattino di mandare una foto del posto dove hai depositato il monopattino quindi verificano hanno già una checklist di verifica immediata su dove il conducente lascia cioè il conducente che utilizza l'usufritore lascia il monopattino in modo tale che controllino che non siano davanti a un passaggio pedonale o davanti a un portone oppure attaccato una vetrina assolutamente sì sappiamo che ci sono delle zone nevralgiche nella città dove viene utilizzato il servizio di sharing mobility e nella fattispecie noi sappiamo grazie all'osservatorio che le stazioni di tow bike più utilizzate sono vicino alle stazioni del treno sì, questi sono dei dati stati all'interno del comune abbiamo verificato che comunque il maggior utilizzo nei pressi delle stazioni farroviarie perché comunque viene utilizzato come mezzo di mobilità ad interscarmio per fare l'ultimo miglio certo, certo, ma potrebbe essere una soluzione anche concorrenziale se vogliamo quella di aumentare il numero di stazioni o manutenere quelle che già ci sono di tow bike in modo tale che la gente sia le persone che hanno deciso di utilizzare questa micromobilità così che possano utilizzarlo più spesso e quindi evitare e quindi lasciare il free floating in giro per i marciapiedi? Sicuramente la soluzione ideale sarebbe riuscire a mettere un sistema di base station come tow bike anziché di free floating come altri operatori perché lasci praticamente la bicicletta in un posto sicuro che non va a danneggiare la mobilità delle altre persone bene, questo discorso mi fa venire in mente una cosa ovvero il concetto di accessibilità tante volte le persone che non hanno disabilità non si rendono conto forse al di là dell'educazione di ognuno che sicuramente può essere maggiore molte persone non sanno che cosa voglia dire accessibile o non accessibile non riescono forse a immedesimarsi che cosa significa questa cosa finché non hai una problematica finché non hai una tua problematica forse non ti tocca e quindi ahimè è così è un discorso che volevo affrontare insieme a te che so che magari in quanto anche architetto te ne curi soprattutto per quanto riguarda il discorso barriere architettoniche quando effettivamente un posto viene un luogo viene considerato accessibile e chi si occupa di certificarlo in quanto accessibile? Allora una certificazione in realtà non c'è una certificazione c'è comunque una normativa che va a indicare come realizzarlo la normativa sarebbe un po' da rivedere perché comunque il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche è una legge che comunque risale all'86 il primo decreto ministeriale sull'effettivo abbattimento del barriere architettoniche è incentrato soprattutto sull'edilizia abiliativa privata perché un po' il fulcro è una cosa abbastanza personale della persona per riuscire a vivere una qualità della vita e successivamente dopo il decreto ministeriale è uscito il DPR 503 che ha allargato l'idea di accessibilità anche alle parti di suolo pubblico quindi allargato tutta la questione dell'accessibilità anche dei servizi che possono essere servizi museali come uffici pubblici o comunque uffici aperti al pubblico al pubblico, teatri e tutto quello che è inerente con la possibilità che un pubblico possa entrare in un determinato locale ma quando parliamo di queste normative parliamo comunque di normative nazionali? sono normative a livello nazionale esiste qualche normativa anche a livello internazionale? a livello internazionale a livello europeo stanno lavorando per cercare di creare proprio una carta a parte che già nel 2006 con il trattato sui diritti delle persone con disabilità dell'ONU nel 2006 hanno definito una sorta di carta sulla disabilità cioè più che altro per dare pari opportunità alle persone con disabilità nella vita quotidiana nel contesto in cui si vive è stata poi rettificata a livello italiano nel 2009 anche se è stata rettificata la questione di abbattimento è un discorso a parte bisognerebbe proprio parlare di pura accessibilità adesso ci sono tanti piani come il PUM nel piano urbano della mobilità sostenibile che sono incentrati soprattutto sulla sostenibilità prevalentemente ambientale ma anche legata comunque all'accessibilità dei manufatti realizzati o nella pianificazione da realizzarsi sul territorio ti chiedevo esattamente questo perché è d'attualità ne parlavamo anche di questo a telecamere spente è d'attualità quella vicissitudine che si è venuta a creare al COP26 di Glasgow raccontaci di questo di questo aneddoto ma guarda mi ha lasciato veramente scioccato perché pensare che a Glaso dove fanno proprio un specifico incontro sulle questioni ambientali si siano dimenticati dell'accessibilità cioè che arriva il ministro israeliano in carrozzina perché è affetto da SLA e non poter accedere al convegno mi sembra una cosa al convegno 426 di Glasgow mi sembra una cosa incredibile effettivamente mi viene un po' da sorridere però uno si rende conto che comunque delle persone che non affrontano quotidianamente la problematica non si rendono proprio conto della problematica che hanno determinate persone perché poi alla fine è una questione solo ambientale la disabilità cioè almeno sotto il mio punto di vista da architetto la disabilità è creata dall'ambiente che uno vive che ha attorno cioè se l'ambiente è progettato bene non crei disabilità nella persona che affronta la vita quotidiana all'interno dell'ambiente sì forse più che non crei la disabilità non crei un handicap direttamente sì c'è una cosa un po' diversa handicap addirittura è una persona è una noi sappiamo che un handicap è una questione ambientale no? se tu sei una persona con disabilità in realtà la parola handicap è una derivazione dagli inglesi lo utilizzavano come termine soprattutto nell'equitazione in cui davano un determinato handicap ad esempio nella corsa i cavalli mettevano un fantino aggiungevano del peso a un fantino che era troppo leggero in modo tale da equilibrare poi tutta la competizione quindi questo ci fa venire in mente che non è una questione personale bensì una questione ambientale che va l'handicap è ambientale più che la condizione in cui si è ok bene sotto questo aspetto mi sarebbe piaciuto fare un po' un affondo insomma cercare di sensibilizzare chi ci guarda chi ci ascolta sulle differenti prospettive relativamente all'accessibilità perché banalmente per una persona per un bipede uno spazio accessibile è uno spazio in cui ci si sta con il nostro corpo e basta mentre invece per quanto riguarda una persona con disabilità magari motoria che si deve muovere su una carrozzina cambia la concezione volevo sapere intanto il tuo punto di vista raccontare magari qualche tuo aneddoto personale ed eventualmente se questo all'interno del tuo lavoro ti ha aiutato un pochino a decodificare meglio le richieste e le istanze dei cittadini così da rendersi conto più o meno se effettivamente la tua stessa condizione ti ha aiutato nelle tue progettazioni diciamo di sì perché alla fine almeno nel settore in cui lavoro che mi occupo per la maggior parte per la stragrande maggioranza sugli abbattimenti sul suolo pubblico sì anche perché comunque ragionando con la mia disabilità mi ha portato a fare un confronto ho fatto anche un corso sul disability management in modo tale da riuscire anche a comprendere le difficoltà di altre tipologie di persone con disabilità ad esempio i non vedenti ad esempio per loro è fondamentale in fase di attraversamento avere una una piastrella podotattile che ti indichi il momento in cui tu stai passando dal marciapiede alla strada quindi se è una situazione di tranquillità e di non pericola una situazione di pericolo perché sei in fase di attraversamento dove sai che magari su una strada rischi di essere investito da un autoveicolo ma anche per quanto riguarda ad esempio i segnali acustici negli attraversamenti pedonali allora i segnali acustici negli attraversamenti sono realizzati più che altro in quelli incroci semaforizzati quindi hai un semafero con il pulsante di chiamata per l'avvisatore acustico in modo tale che in fase di attraversamento col verde c'è questa segnalazione acustica che guida la persona con disabilità visiva nella fase di attraversamento e gli indica che quella fase è sicura perché è una fase del verde quindi di possibilità di poter accedere sarebbe bellissimo riuscire ad avere una città completamente accessibile anche sotto questo aspetto sappiamo che non tutti gli attraversamenti hanno segnali acustici sarebbe una bella iniziativa però Torino è abbastanza all'avanguardia noi abbiamo più o meno all'incirca un 600 semaferi disposti all'interno degli incroci e più di 100 mi pare oramai siamo arrivati a 120 quindi più o meno un un sesto di quello realizzato è già dotato di avvisatore acustico e che cosa si scusami poi possono esserci un sacco di altri problemi questi sono vandalizzati e tutto quanto però anche lì è una questione di educazione civica che purtroppo non riusciamo ancora ma che cosa serve cioè tu mi dici che c'è un determinato numero di segnalatori acustici in determinati semafori perché non in tutti è una domanda un po' provocatoria ma non in tutte anche per una questione di costi certo all'inizio lo mettevamo su un incrocio classico sui quattro quattro angoli che ti consente di fare tutti e quattro gli angoli poi abbiamo per ridurre un po' i costi lo mettevamo solo sui tre lati quindi uno poteva a fare il giro e utilizzare il percorso tramite il passaggio dei semafori e vedere di fare un giro più lungo ma riuscire comunque a completare il suo percorso in sicurezza perché è una questione di sicurezza più che altro e certo beh assolutamente sì assolutamente sì ma anche le isole che creiamo isole pedonali di protezione con la riduzione del percorso di attraversamento servono anche le persone non udenti perché comunque le mettono meno sono soggette meno al pericolo e un percorso più breve ok molto bene io continuo ad essere della mia idea che sarebbe bellissimo poter avere degli investimenti relativi al rendere maggiormente accessibile la città ma insomma capisco che ci siano anche altri costi per la micromobilità bene vorrei fare una vorrei ragionare un attimo su quelli che sono i canali di informazioni di approfondimento noi abbiamo il portale dell'informa disabile che è un punto di riferimento per le persone con disabilità che non soltanto rimbalza anche notizie di giornali promuove progetti di sussidiarietà sul territorio esistono altri canali dedicati ai cittadini con disabilità magari con particolare riferimento alla mobilità oppure ci sono degli sportelli fisici attivi sul territorio ma attualmente siamo riusciti a unificare e portare all'interno del palazzo di lavori pubblici proprio l'ufficio dedicato alla consegna dei dei CUDA che sono il contrassegno unico disabili europeo che consente di poter far circolare una macchina in ZTL con questo contrassegno devi unicare ovviamente le carte le targhe e poi ti consente di parcheggiare nei parcheggi generici per le persone con disabilità all'interno del territorio che sono quelli senza il numero che sono quelli senza il numero invece per avere il parcheggio sotto casa o sotto l'ufficio riservato esistono delle specifiche sempre all'interno del sito del comune di Torino c'è tutta la modulistica ci sono tre tipologie di modulo c'è quello dedicato alle persone maggiorenne quello dedicato alle persone con età inferiori 18 anni quindi viene compilato ovviamente della patria e potestà e poi c'è quello generico in caso in cui la persona con disabilità non sia in possesso di un autoveicolo o la famiglia non è in possesso di un autoveicolo e quindi gli viene concesso di realizzare nelle strette vicinanze dell'abitazione comunque uno stallo generico per superire a questi problemi ma tutte queste informazioni qui sono e non solo anche le richieste sono tutte digitalizzate oppure esistono anche degli sportelli in cui eventualmente andare con degli orari di telefono degli orari adesso vado a cercarmi mi sono portato un po' documenti hai fatto bene per essere il più preciso possibile non è il nostro settore specifico vai allora ci sono i numeri di telefono che sono ad esempio 011 011 33 132 e poi c'è un'email che è parcheggi.h chiocciolocomune punto torino punto it la modulistica la si trova sul sito del comune di Torino facendo una ricerca sulla sulla richiesta di parcheggi e persone con disabilità e si trova appunto questi tre tipologie di moduli per poter fare richieste il vantaggio è che con la pandemia comunque la pubblica amministrazione ha avuto una forte spinta sulla digitalizzazione e la richiesta del parcheggio lo stallo per disabili si può fare tutto in via telematica però chi necessita di un ufficio c'è comunque l'ufficio e dove si trova rispettiamolo in piazza san giovanni 5 tu puoi andare sia a prendere quindi richiedere il cud oppure in caso perché ha una durata di 5 anni devi rinnovarlo vai sempre in quell'ufficio lì oppure se devi fare una domanda per la richiesta di uno stallo a persona sotto propria votazione sotto l'ufficio vai sempre in quel posto lì ed è tutto unificato non mi ricordo se li hai già detti ci sono degli orari specifici di questo sportello questo sì allora martedì mercoledì e giovedì dalle 9 e mezza alle 11 e mezza ok molto bene quindi nel caso in cui qualcuno dovesse avere bisogno questo si può trovare anche sul sito di Informa Disabile perfetto infatti stavo per lasciare i riferimenti ovviamente tutte queste informazioni sono trovabili all'interno del sito Informa Disabile se non basta il sito potete seguire anche la pagina facebook dove verrà caricato anche questo podcast bene ti ringraziamo grazie mille per essere stato qui in nostra compagnia spero che sia stato di tuo gradimento anche il tè soprattutto adesso lo assaggiamo insieme d'accordo allora grazie ancora e grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia alla prossima puntata di A Tu Per Te Podcast grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti